Dagli inizi con pochi immobili al dominio del mercato immobiliare a Monfalcone e provincia di Gorizia. Ciao a tutti! Oggi voglio raccontarvi la straordinaria storia di OK Casa Web, un'agenzia immobiliare che in pochissimi anni è riuscita a diventare il leader assoluto del mercato nella zona di Monfalcone e della provincia di Gorizia. Partendo da zero, OK Casa Web ha iniziato la sua attività gestendo un numero limitatissimo di immobili. Tuttavia, grazie alla passione, all'impegno, al metodo e alla dedizione del suo team, l'agenzia ha rapidamente guadagnato una reputazione di eccellenza nel settore immobiliare. Uno dei fattori chiave del successo di OK Casa Web è stato il suo approccio innovativo e orientato al cliente. L'agenzia si è sempre impegnata a offrire un'assistenza completa a chiunque volesse acquistare, vendere o affittare qualsiasi tipo di immobile. Grazie a un servizio personalizzato e professionale, OK Casa Web ha saputo conquistare la fiducia dei suoi clienti. Ma quali sono i numeri che dimostrano il successo di OK Casa Web? Beh, lasciatemi condividere alcuni dati interessanti con voi. Numero di immobili venduti. OK Casa Web ha gestito un numero impressionante di immobili nel corso degli anni, aiutando numerosi clienti a trovare la casa dei loro sogni o a vendere la loro proprietà al miglior prezzo di mercato. La loro esperienza nel settore immobiliare è un vero punto di forza. Prezzo medio delle case. Secondo le ultime informazioni disponibili, il prezzo medio delle case a Monfalcone si attesta intorno a 1.142 euro al metro quadrato. OK Casa Web ha dimostrato di avere una profonda conoscenza del mercato e di essere in grado di offrire soluzioni adatte alle esigenze dei propri clienti e di riuscire a fare ottenere spesso l'intero valore richiesto. Tempo medio di vendita di un immobile. Un altro aspetto impressionante di OK Casa Web è il tempo medio di vendita di un immobile, che si aggira intorno ai 15 giorni dall'incarico. Questo dimostra l'efficienza e la professionalità dell'agenzia nel gestire le transazioni immobiliari in modo rapido ed efficace. Grazie all'impegno costante nel fornire un servizio di alta qualità e alla capacità di adattarsi alle esigenze del mercato immobiliare, OK Casa Web si è affermata come il punto di riferimento per chiunque cerchi assistenza nel settore immobiliare a Monfalcone e nella provincia di Gorizia. Se state cercando una soluzione immobiliare su misura per voi, vi consiglio di contattarci. Grazie. Grazie. Grazie.